Queste tre magie costano un euro e sono assurde. La prima è la seguente, abbiamo una matita, un tubicino magico, inserisco la matita dentro il tubicino, prendo il coperchio, agito, schiocco le dita e la matita si trasforma in sabbia. Per la seconda ho un gessetto che inserisco all'interno di questa scatola magica, schiocco le dita, il gessetto si divide per davvero, schiocco le dita e il gessetto torna intatto. Chissà come funziona questa, eh? Per la terza ho una farfalla con un elastico, giro la farfalla su se stessa, la inserisco dentro un libro e quando lo spettatore apre il libro vola la farfalla. Questo è bellissimo. Seguimi per altre magie.